bene a tutti ragazzi siamo qui su minecraft ho fatto il freddy fast bear pizza serve il locale di five nights and freddy eccolo qua freddy's l'ho fatto in legno intanto non fate contro le slime entriamo qui è l'inglese il lampadario ho fatto qui ho fatto dei quadri qua c'è la letteria dove si comprono i bignetti per entrare tanto dei quali della carne non so come è entrata poi di qua ci sono le persone i cani da guardia non so che ci fa uno slime qua ma lasciamo stare il cane che fa la guardia tutti i tavoli e quali animatronic come potete vedere fatti con le zucche normalmente ho fatto bonnie e freddy uno scheletro qua dentro anche qua c'è come fare il robot anche se non si fanno ma come esempio sono fatti come esempio se si scava qui c'è un passaggio segreti segreti non so manco dove l'ho messo non mi ricordo manco dove l'avevo messo qui eccolo qua come un easter egg una specie di easter egg un corpo a volo del corpo c'è lo scheletro sopra poi ho fatto i bagni normalmente come un locale qui ho fatto il lavandino brutto molto brutto ecco qua visto che il video è corto vi farò vedere anche il gabinetto gigante ci vediamo fra due secondi rieccoci ritornati questo è il gabinetto gigante mi sono dimenticato sotto di fare il poi potete vedere dove lo sostiene scusate mi sono dimenticato di farlo poi qua sopra sarebbe lo scarico affettate che adesso metto gli oggetti li metto tutti qua due secondi come oggetti di scarto mi metterò due secondi qua ci metto un attimo qua il video è tutto oscuro a caso qua ecco qua la maggior parte è nata dentro la maggior parte no vabbè proviamo tac vabbè dai quelli che sono andati dentro e di qua c'è lo scarico quel piccolo buco è lo scarico qua quindi sennò i rifiuti come li potete vedere sono lì andranno tutti giù oltre a questo ok vedete c'è riprendolo c'è il collegamento che fa smettere di scendere l'acqua eccola qua e poi ho fatto anche il la marionetta di freddy night and freddy eccola qui è abbastanza carina come è fatta le lacrime fatte bene ok il video il video può finire qui se questo video vi è piaciuto mettete mi piace dato lì ho fatto il video il canale mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video condividete e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazza